Sì, Pietro, non sono mai stato in Calabria. Sono super curioso. Sembro una terra bellissima. È una terra pazzesca. A me fa arrabbiare che i giovani devono fuggire per colpa della disoccupazione. Sì, ma la Calabria non è solo questo. Aspetta di arrivare a San Floro. Io e Pietro stiamo andando verso la Calabria a incontrare Stefano, 30 anni, imprenditore e attivista. Lui, insieme ad altri, è riuscito a far boccare la più grande discarica d'Europa che volevano costruire nel suo territorio. Subito dopo ha lanciato un progetto di imprenditoria agricola pazzesco, di cui si parla in tutto il web. Buongiorno ragazzi. Ciao Stefano. Benvenuti. Piacere io. Piacere io. Piacere Giulio. Venite con me, andiamo a fare un giro. Dai. È proprio bello qui. Tu Stefano sei cresciuto in questa città? Sì, i miei nonni vivevano già in questo paesino. Penso che siamo soltanto 690 abitanti, la maggior parte anziani, perché i giovani o hanno studiato fuori e rimangono fuori, o comunque negli anni settanti c'è stata tantissima emigrazione. Come ogni paesino del sud, le persone cercavano un'opportunità al nord. Stefano, tanti giovani sono andati via. Tu perché sei rimasto? Sono rimasto per difendere questo territorio. Vedi, è una vallata completamente naturale, però tre anni fa rischiava di essere tutto distrutto a causa di un problema. Vedete questo cancello, ragazzi? Era dove volevano fare la discarica più grande d'Europa, nel nostro comune a San Floro. Quindi questa doveva essere la discarica più grande d'Europa. La seconda più grande d'Europa è la prima in Italia. Pensa che oggi Malagrotta è la discarica più grande d'Italia, era 120 ettari, questa era 150. Quindi purtroppo per diversi decenni si sarebbero depositate qua i rifiuti più grandi e importanti della Calabria e d'Italia. Vedete questa buca? Cinque anni fa era tutto bosco. Era nata come un'isola ecologica, in realtà è stata autorizzata per poi depositare rifiuti speciali o pericolosi. Per fortuna è nato un comitato civico spontaneo che ha guardato tutte le carte, quindi abbiamo fatto dei ricorsi pazzeschi, durati anni anche. In due anni abbiamo risolto il problema perché un vizio di procedura ha sospeso tutti i lavori e poi revocato. Quindi questa discarica non si farà più. Però restiamo con questo problema di una grande buca in un bosco pubblico. Ragazzi, questi sono gli orti di famiglia. Stefano, ma che fate qui? Questa è la risposta al problema della discarica, che è là sopra. Praticamente ho preso il terreno che era dei miei nonni e ho iniziato a coltivarlo. Ho pensato di fare un orto per gli amici della città che non hanno il pollice verde, il tempo o la terra. Quindi i lavori agricoli li facciamo noi, piantiamo noi le verdure, loro raccolgono il sabato o la domenica. Siamo partiti con dieci orti, poi siamo diventati 150 in un anno, ma per un motivo semplice, difendere il territorio. Dopo l'orto il progetto del pane, poi dal pane al progetto del mulino. Ciao Franco! È bellissimo questo posto, come hai fatto a realizzare tutto questo? Mulino è stata una mia idea, nata da un problema. Stavano vendendo l'ultimo mulino a pietra, quindi ho pensato di salvarlo, ma non mi bastavano i capitali per comprarlo. Era un mulino in un'altra provincia. Ho lanciato su Facebook un annuncio e tantissime persone mi hanno sostenuto. Ho raccolto in 90 giorni 100 persone con 500.000 euro di capitale sociale per realizzare questo grande sogno, che è un casolare dove il piano diventa farina e la farina un prodotto da forno. Rispondendo a un'esigenza, cioè il mangiare sano. Però difendendo il territorio, coltivandolo, perché siamo un'azienda agricola che produce grani antichi, e difendendo la tradizione, tornando a fare il pane come una volta. Quindi lievito madre, farina macinata a pietra e forno a legno d'olivo. Poi è dove teniamo il grano. Sposto questo. Essere giovani imprenditori in Italia è molto difficile, soprattutto quando devi iniziare e raccogliere molta fiducia. Tu hai incontrato questo problema? Sì, ma l'età è solo un numero su una carta di identità, non è nient'altro. Conta la tua aspirazione, il tuo sogno e poi cosa fai per realizzarlo. Io do sempre un consiglio molto semplice. Di sognare ancora più in grande. L'unico modo per fare quello che non si riesce a fare è pensare oltre, trovare soluzioni nuove. Questo deve fare l'imprenditore. Fa sì che le cose cambino. Far accadere le cose.